Conte Dracula o l'uomo che ha salvato l'euro e l'Europa? In Germania ci sono state due versioni differenti di Mario Draghi, presidente della BCE dal 2011 al 2019 e presidente del Consiglio incaricato per risolvere l'attuale crisi di governo. Quando lasciò la BCE, Angela Merkel lo ringraziò per il cruciale contributo alla stabilità dell'area euro. Ma Super Mario fu duramente criticato dalla stampa tedesca, soprattutto dal tabloid Bild, che ancora prima che arrivasse lo aveva bocciato perché italiano, poi negli anni in cui ha governato, lo accusava di succhiare i soldi dei risparmiatori tedeschi e oggi titola Draghi deve salvare l'Italia. Ne abbiamo parlato con Tobias Piller, storico corrispondente della FATS a Roma. Da un lato ci sono quelli che da tempi storici sono in quel senso stati contrari alla politica di Draghi, presidente della BCE, centrale europea e lo accusavano di aver tolto tutti gli interessi ai risparmiatori. Dall'altro lato, certamente è un nome che rievoca grande speranza, che finalmente arriva qualcuno che mette a posto un pochino l'Italia. Dall'altro Draghi come impostazione personale è ingiusto dire banalmente che è il solito italiano. Draghi stesso, prima di arrivare a Francoforte, alla Banca Centrale Europea, con il mio giornale, anzi con me, ha fatto una grande intervista che ancora oggi, i discorsi del 2011 di Draghi, si trova sul sito della Banca Centrale italiana. Draghi lì dice che bisogna seguire il modello tedesco. Dice così che è giusto guardare una politica che non crei inflazione come l'ha creato così l'Italia nella storia. In quel senso ci sono dei tedeschi che lo accusano industamente e quello che non si vede tanto è il fatto che Draghi stesso, come direttore generale del Ministero del Tesoro, era un grande riformatore, soprattutto un privatizzatore. Questo certamente non va bene adesso alle 5 Stelle, che sono abbastanza statalisti. Per quanto riguarda il Recovery Fund, la Germania ha chiesto briciole, 23 miliardi a fondo perduto. Piller. In Germania, mi spiace se lo dico un po' sprezzante, viene vista questa cosa come due soldi, perché in Germania è in relazione al PIL pochissimo. E allora dicono abbiamo due priorità, digitale e ambiente, e ci buttiamo un pezzo lì, un pezzo là e basta. Non sono soldi da lasciare per strada, da buttare, ma non cambia le sorti della Germania. L'idea, quando è stato fatto questo Recovery Fund, non era di dare soldi alla Germania, ma di dare soldi proprio ai paesi in difficoltà, ai suoi paesi che dovrebbero ristrutturarsi. Il problema sta lì, perché i soldi non sono stati acchiappati dal Primo Ministro Conte, sono stati dati dai leader europei, sapendo che bisogna ristrutturare qualcosa in Italia per dare all'Italia una nuova spinta di crescita. In questo senso l'arrivo di Draghi certamente aiuta molto a calmare i leader europei e anche a fare qualcosa di utile per l'Italia. Lo stesso Commissario Europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, aveva chiesto di rafforzare il piano italiano sotto l'aspetto delle riforme. Quindi Matteo Renzi ha fatto bene ad aprire la crisi? C'è sempre il personaggio ingombrante di Matteo Renzi e non è riuscito a comunicare bene cosa stava facendo, ma per la sostanza questo governo era abbastanza immobile da molto tempo.